A due anni da sisma che ha colpito il centro Italia, le popolazioni fanno ancora i conti con problemi e disagi quotidiani. Fra il corpo bandistico di Barzio e la banda di Accumuli, comune laziale fra i più colpiti dal terremoto, è nata un'amicizia nel segno della solidarietà. Dopo aver promosso diverse iniziative, i musicisti vassassinesi hanno deciso di aderire a una mobilitazione promossa dal gruppo Alpini del Lazio e raccogliere fondi per costruire una sala a poli funzionale. Servono 50.000 euro per dotare la struttura di una cucina moderna ed efficiente. Questa iniziativa è nata dall'amicizia che è scaturita nel corso dell'anno 2017 col corpo bandistico di Accumuli. Quando siamo scesi nel loro paese a donare il contributo che avevamo raccolto durante le nostre iniziative, prettamente fatte come banda, ci siamo accorti della loro situazione in cui vivono ancora tutt'oggi a due anni dal sisma. Abbiamo deciso, grazie al supporto della Banca della Valsassina e della Fondazione Comunitaria di Lecco, di promuovere questo progetto solidale che si chiama Accumuli nel Cuore, dove dovranno essere raccolti fondi per sostenere il gruppo Ana del Lazio, che realizzeranno una struttura e noi vorremmo collaborare con loro donandogli la ristorazione, quindi la cucina che verrà posizionata all'interno di questa struttura polivalente. La nostra iniziativa si può contribuire versando un contributo presso il conto che verrà predisposto dalla Fondazione Comunitaria di Lecco o se no contattando direttamente il Corpo Musicale Santa Cecilia mandando una mail al nostro indirizzo o mail.